Ciao ragazzi, benvenuti a questa nuova parte di Mega Man Battle Network 5 da BotimDS la scorsa parte avevamo battuto Colonel adesso dobbiamo andare in questa sala bene, entriamo e si sente una voce dove ci invita ad andare lì questo uomo si chiama Beryl che è il possessore del navi colonel e adesso spiegherà cosa sta succedendo nel net cioè ci sta spiegando che stanno formando una squadra di net navi per sconviggere l'organizzazione malvagia che ha occupato la rete e il suo comito sarà liberarlo quindi adesso ci spiega che tutto quello che è successo era soltanto una prova, un test per vedere se eravamo adatti a questa squadra e quindi ragazzi siamo passati quindi adesso io, Len e Mega Man siamo membri effettivi di questa resistenza quindi insieme dovremmo vincere contro Nebula il gruppo dei cipposcuri che hanno rapito il padre di Len va bene, questo sapevamo che il dottor Riga l'aveva preso in ostaggio il padre di Len che è lo scienziato pazzo a capo di questa organizzazione che si chiama Nebula e quindi adesso entriamo in questa resistenza e adesso gli diamo il pet e adesso ce lo riconsegna e quindi adesso siamo effettivamente nel gruppo degli antinebula di Colonel Colonel, se non vi ricordate è quel navi che abbiamo affrontato prima ecco per questo il nome Team Colonel deriva da questa cosa e già domani iniziamo per una missione di liberazione quindi dobbiamo liberarci di un'area occupata da Nebula quindi domani abbiamo già una missione prestabilita e questa squadra è top secret e adesso possiamo andare e adesso non ci rimane altro che tornare a casa quindi ritorniamo ci andiamo nella nostra stanza salviamo salviamo ok adesso andiamo a dormire giorno dopo e oggi è il grande giorno della missione adesso vediamo adesso vediamo che il pet suona e ci chiama Beryl quindi la missione inizia ora questa missione consiste nel liberare l'area dalla morsa di Nebula è stata la missione inizia quindi la missione inizia quindi quindi ragazzi in questa missione saremo da soli e però ha inviato Colonel ad aiutarci quindi ragazzi comanderemo sia Megaman che Colonel adesso believers e a a a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Va bene ragazzi, adesso taglio e vi aspetto nell'area 2 per l'incontro con Colonel. Eccoci ragazzi, qui è Colonel. Ok, adesso parliamo con lui. Ed eccolo qui. Quindi in questa missione saremo solo Colonel e Megaman. Quindi ragazzi comanderemo tutte e due i navi. Adesso vediamo che con un colpo di lama Colonel distrugge la porta. Ok, adesso entriamo nell'area. Per sicurezza salvate. Va bene, però ragazzi per oggi vi voglio fermare qui. Nella prossima parte vedremo cosa bisogna fare. Spero che la parte vi sia piaciuta. Commentate e iscrivetevi. Qui è Raffox24, vi saluto.